Prima di iniziare il video, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Il tuo supporto per noi è estremamente importante. Grazie. È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Michele Basso, un giovane talentuoso atleta italiano, all'età di soli 26 anni. Questa terribile notizia proviene dal mondo dello sport Michele Basso ha perso la sua battaglia contro una malattia con cui ha vissuto per un lungo periodo. La sua famiglia e la società sportiva in cui ha militato per anni hanno annunciato la sua scomparsa sui social media. Michele era un promettente giocatore di hockey e un difensore stabile per l'asiago hockey. Ha ottenuto numerose convocazioni nella nazionale Under 20 grazie alle sue abilità. Tuttavia, la malattia che lo affliggeva alla fine ha avuto la meglio su di lui, anche se inizialmente sembrava che avesse superato la sfida. Nel corso degli anni, Michele Basso aveva anche ottenuto la laurea e si era qualificato come tecnico audioprotesico. Lascia la madre Elena, il padre Riccardo, il fratello Nicola e la fidanzata Valentina. La sua assenza lascerà un vuoto nel mondo dello sport e nella vita di coloro che lo conoscevano. Sarà sempre ricordato per il suo talento e la sua forza. Lascia un tuo commento per ricordare questa giovane vita, spezzata troppo presto. Al prossimo video!